Da domani saranno online gli avvisi unicamente per il settore arte, cultura e altre attività culturali o esclusivamente online. Si è fatto questa scelta per un motivo di semplificazione. Capiamo che le associazioni hanno avuto l'anno scorso una doppia presentazione e hanno creato dei problemi e quindi vogliamo semplificare. Un occhio sia agli emergenti. Riteniamo che il nostro territorio abbia bisogno di creatività e quindi è giusto che la Fondazione premi quelle associazioni che sono veramente in firi, iniziano da poco o hanno avviato solo pochissimi progetti. Magari si tratta di nuove generazioni e quali vogliamo dare impulso in qualunque settore dell'arte, dalla musica, al teatro, alla fotografia, tutte quelle che possono essere le arti che valorizzino, ecco questo è molto importante, il nostro territorio. All'interno di questi 9 milioni chiaramente ci sono anche dei fondi che erano stati impegnati ed erogati poi in quest'anno ma relativi a progetti degli anni precedenti. Si è cercato comunque nell'anno 2014, 15 e 16 di assicurare una certa continuità nelle erogazioni in maniera tale che il territorio non ne abbia poi nessun documento. Dal 2011 abbiamo iniziato questo progetto con la Fondazione il Comune di Atri ed oggi il teatro comunale è diventato un luogo di attrazione culturale a 360 gradi non solo per le grandi compagnie ma per le compagnie locali che vogliono fare musica, teatro e soprattutto per i ragazzi, per i giovani e poi è stato collegato a questo gioiello un progetto appunto, un dialogo culturale con i paesi, con diversi paesi del mondo. L'anno scorso appunto dicevo c'è stato il dialogo culturale con il Pakistan, quest'anno con la Spagna. Abbiamo riscoperto il mercato coperto ma più che altro, più che riscoperto l'abbiamo voluto rimettere al centro di una discussione culturale, economica della città e dei cittadini. Per noi è un luogo di memoria, di vecchia memoria che dovrebbe essere utilizzato anche con delle vocazioni diverse.